Ciao a tutti ragazzi, io adoro il soft girl aesthetic, infatti in questo video vi farò vedere un sacco di outfits super cute. Ho preso un sacco di vestiti bellissimi da share nel runway ed oltre ad essere bellissimi sono anche molto comodi visto che dobbiamo stare chiusi in casa. Oltre ai vestiti ho preso anche una parrucca molto carina rosa e non vedo l'ora di farvela vedere. Comunque vi dico anche che lascerò qui giù nell'info box il link di tutte le cose che ho scelto e anche dei codici sconto. Adesso iniziamo subito con il video. Ciao a tutti. 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 Comunque ragazzi spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video, ricordatevi di fare tantissimi like se vi è piaciuto e di iscrivervi a questo canale. Comunque ci vediamo nel prossimo video. Ah ricordatevi che lascio qui giù il link di tutto e comunque ci vediamo nel prossimo. Alla prossima ragazzi!